Riprendono gli allenamenti per le formazioni di volley dopo un weekend in cui l'unica vittoria è stata della pallavolo Cerignola in Serie D femminile sull'Aquila Azzurra Trani per 3 a 2. Mentre per Iposea Udas, protagonista dell'autosuicidio a Modugno e della libera Virtus sconvitta per partamente in Salento dall'Ugento, saranno giornate dure per cercare di capire cosa non è andato nei meccanismi di entrambe.